secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie toccati 2, oddio ho fatto collateral oddio ho fatto collateral headshot no no ho preso io what 3 posso prendere la roba che cazzo fa fr3 si fin sottolineatura ha fatto la simetrice leggi sui che fr3 si fin sottolineatura aspetta che cazzo è ma che cazzo fa 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 cazzo fa che cazzo fa che cazzo fa che cazzo è ma cosa cazzo fa Buonasera a tutti Io sono a portocervo Non ho avuto tempo Comunque alla prossima sub Rigiriamo la ruota Sei caldissima Le gambe le abbiamo abituate Aiuto È una tortura Io penso che chi ha aiutato oggi è più intelligente No Questo è bravissimo Per del lavoro Andrea Non lo fare mai più Fatta in giretto per lustrativo Va Va avanti va Mi sa che ho accellato Aiutatemi Aiutatemi Come la aiutiamo Chiamate l'ambulanza Chiamate l'ambulanza Chiamate l'ambulanza Mamma mia Sta a partire faina Mi sta a partire faina Devo usci un attimo Porco Dio No 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 Some situations no ok 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 no 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 Io devo aiutarti a dormire Chi cazzo è Briz Ogni volta che apro League of Legends Due con Briz Chi è Briz Chi stracazzo è Briz Non so chi sia Briz Chi è Briz Chi cazzo è Briz Chi è Briz Briz palesati Che ti stacco la testa a morsi Chi cazzo sei Chi sei Chi è Allora io i commenti li vedo Sono solo un po' lontani Aspettate che Metto poi la musica a basso volume Ok Ah ok posso parlare ora Stai zitta gallinaccia Andrea Si mi tolgo quando posso Adesso Adesso molto vicino molto vicino prego